Partiamo dal risultato. Vittoria, le chiedo, meritata? Complessivamente sì, perché abbiamo cercato sempre di farla la partita. Il problema è che abbiamo fatto un primo tempo importante, però abbiamo commesso anche tanti errori. Loro giocavano soltanto sugli errori che noi commettevamo e troppe volte abbiamo commesso errori gratuiti e dato un po' di coraggio e qualche possibilità a loro. Faceva molto caldo, siamo all'inizio. Non è facile tenere i ritmi che dovremmo e che dobbiamo tenere, per cui questi punti ce li prendiamo perché intanto complessivamente sono meritati. A parte alcuni episodi, voglio dire, la traversa iniziale della Cararesi, ma noi abbiamo complessivamente legittimato. però dobbiamo crescere, perché lo dobbiamo fare, perché di margini ne abbiamo tanti. La rivedremo questa partita, la rivedremo perché ci sono tante cose che devono e possono andare meglio. La soluzione è contento? No. Ah, non è contento? Sì, per la partita complessivamente sì, ma possiamo fare di più e ne parleremo in settimana. La mia domanda, se è contento, mi risponde no. Non c'è risposto. Qualche considerazione tattica? Possiamo fare meglio, di sicuro. Qualche considerazione tattica? È su qualche problema fisico per uno dei tre attaccanti o le ha cambiate scelta tecnica? Cambiarli tutti e tre? No, avevano speso tanto, c'era molto caldo, alcune cose non le facevano bene. De Marchi ha fatto gol, stava facendo una buona partita, ma poi mi è sembrato un po' appagato. Allora, dobbiamo migliorarci tutti. Io non boccio nessuno, perché non esiste. Oggi ne ho cambiati tre, ma nessuna bocciatura. Può pure essere che la prossima gara ripartiranno quei tre, quindi non ce ne sono di bocciature. Però dobbiamo capire bene il senso di questo campionato, di questa categoria. Noi abbiamo qualità, anche oggi lo abbiamo dimostrato. Il senso della categoria, che forse ha spiegato Rizzo in un quarto d'ora, e anticipo l'altra domanda, come avevamo detto ieri in conferenza, e come aveva scritto Massimo, che in studio sul nostro sito internet, questa squadra può fare bene il 4-3-3. No, ma non cominciamo a parlare di numeri, 4-3-3, ci confondiamo. Andiamo a fare dei diritti, ma no, parliamo della partita. Possiamo fare meglio, il concetto che io esprimo è questo. Però Rizzo è d'accordo che ha spiegato che cosa vuol dire l'ottanta. Si è entrato bene, come sono entrati la settimana scorsa bene Bosic, eccetera. Poi oggi Bosic è entrato, ha preso un colpo. È inutile andare a dire all'esterno le cose che noi siamo in grado di fare e che possiamo migliorare. Ma questa è una squadra che ha qualità. Questa è una squadra che ha qualità ed è normale che sia così. Ora non ha una grande continuità. Lo facciamo a tratti durante la partita, abbiamo fatto un primo tempo ottimo. Poi queste partite vanno chiuse, definitivamente invece l'abbiamo riaperta. Dobbiamo crescere. L'ultima da parte mia è poi una domanda da studio di Massimo Profeta, prima di liberare il tecnico Auteri. È stata una decisione sua o hanno scelto i ragazzi in campo, Pompetti, più giovani di tutti, a tirare il calcio di rigore? Pompetti è rigorista perché poi dopo se qualcuno... Quando abbiamo provato i rigori, Galano era fuori contesto. Galano è rientrato con noi proprio in questa settimana. Contentosi di Galano? Certo che sì, certo che sì. Quindi nel momento in cui abbiamo provato i rigori, lui era fuori dal nostro progetto. Adesso è rientrato, era giusto così che battesse Pompetti. Un calcio di rigore si può sbagliare, non è un problema. Magari potrà ricapitare. Però le regole si rispettano, ma non c'è stato problema da questo punto di vista. Non ritiene che quando si perde palla ci sia troppa distanza tra i reparti? Ecco perché Rizzo è indispensabile per l'equilibrio e per l'interdizione. Ha sentito la domanda Auteri perché ho messo in viva voi? Ho sentito, ma queste sono soltanto cose che appartengono al riassunto finale di alcune cose. Devi andare a capire perché perdi palla. La maggior parte delle volte noi l'abbiamo regalata sui piedi, tutto qua. È chiaro che quando regali la palla sui piedi è l'avversario, è un avversario che ti aspetta, che mantiene i tre davanti, che è gente anche rapida, pericolosa e 50 volte dai la palla sui piedi con errori gratuiti, certo che puoi avere qualche problema, però siamo sempre stati bravi a recuperare, anche se in quelle situazioni spendiamo, non è quello il problema.